Meningite critiche le condizioni della donna, la prognosi è sempre riservata. Santa Croce, nuova riunione per il bando di gara, è stata fissata in regione per il giovedì prossimo. Lutto nel mondo politico abruzzese, è deceduto Ugo Crescenzi, domani i funerali. In mostra le bambole di ogni epoca, esposti esemplari unici nelle sale Arsa. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. Restano molto critiche le condizioni della donna marsicana di 51 anni, affetta da una forma di meningite non contagiosa. Si tratta della listeria Monocitogenens, trasferita domenica scorsa dall'ospedale di Avezzano, dove era ricoverata da mercoledì scorso al reparto di rianimazione dell'ospedale di Chieti. Attualmente viene assistita con tutte le procedure previste dallo specifico protocollo sanitario. Alla luce delle condizioni della paziente, resta quindi la prognosi riservata. E dopo i recenti casi di meningite, sono aumentate sensibilmente le richieste di vaccinazione anche in Abruzzo. Per questo l'Aso di Pescara ha previsto ulteriori sedute straordinarie di vaccinazione, che saranno eseguite dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 17.30, presso la stanza numero 8, situata al primo piano del poliambulatorio del presidio ospedaliero di Pescara, in via Fonte Romana 8, di fianco al laboratorio analisi. Le prenotazioni necessarie per eseguire la vaccinazione dovranno essere effettuate, contattando l'apposito numero telefonico, fino a venerdì 13, dalle ore 9 alle ore 12. Un incidente stradale, quantomeno unico ed insolito, ma fatale per un'automobilista, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lungo l'autostrada 25, tra i caselli di Celano e Pescina. Tarcisio Paniccia, questo è il nome dello sfortunato automobilista, stava riposando all'interno della sua macchina, una Honda Civic, ferma in sosta di corsia di emergenza. Per motivo al vaglio degli agenti della polizia stradale della sottosezione di Prato-la-Peligna, è stata investita da un'autolettura Alfa Romeo, il cui conducente aveva perso il controllo, forse per un colpo di sonno. Tarcisio Paniccia era docente dell'Università degli Studi di Annunzio di Chieti, urologo originario di Veroli, in provincia di Frosidone, residente a Francavilla. Da quanto si è saputo, il conducente dell'Alfa Romeo, che transitava sulla A25 in direzione di Roma, ha perso il controllo della traiettoria del suo veicolo, che ha violentamente tamponato la Honda Civic della vittima, auto che era ferma all'interno di una piazzola di sosta, posta a margine della corsia di emergenza. Le condizioni del professore universitario sono apparse subito molto gravi. Trasferito all'ospedale di Avezzano con il 118, è deceduto poco dopo. Il conducente dell'Alfa, invece, non ha riportato conseguenze gravi, almeno così sembra. Si avvia a conclusione la delicata, lunga e controversa vicenda della concessione della sorgente Santa Croce di Canistra. La dirigente delle servizie risorse del territorio ed attività estattive della regione, Iris Flacco, infatti, ha fissato per giovedì prossimo la seconda riunione della commissione di gara relativa al bando per la concessione della sorgente Sponga. Gli esperti, guidati dalla stessa Flacco, devono essere chiamati ad esaminare la documentazione in merito al requisito dell'ammissibilità. Poi sarà nominata la commissione di valutazione che dovrà giudicare l'ambito a concessione. Dopo la prima riunione del 13 gennaio scorso, come noto, è emerso che al bando partecipano quattro soggetti. Il gruppo Norda, acqua minerali di Lecco, dei fratelli Pessina, titolari di marchi nazionali come la San Gemini e la Monticchio Gaudianella. L'italiana Beverege del gruppo Colella, società che controlla la Santa Croce, che aveva la concessione prima del nuovo bando e che ha presentato ricorso al TAR, che ha in corso da diversi mesi un pesante contenzioso con la regione. L'associazione temporale di imprese ATI, composta dalla Bruni Industri e dalla Edith Colmar, che avrebbe alle spalle un gruppo arabo e l'acqua SRL dell'imprenditore avezzanese Mastro Cesare. Su tutta la procedura pende comunque, è bene ricordarlo, il pronunciamento del TAR, al quale si è rivolta la Santa Croce, proprietaria dello stabilimento di Calistro e del relativo marchio. La Santa Croce ha 75 dipendenti, tutti in mobilità ed avviati al licenziamento. Il WWF Abruzzo denuncia la strage di fauna selvatica registrata nella nostra regione. In un comunicato specifico, quello che temevamo è accaduto. Cacciatori senza scrupoli hanno approfittato del cattivo tempo e delle condizioni di disagio della fauna per perpetrare impuniti vere e proprie stragi. Azioni, dice Luciano Di Tizio, delegato del WWF Abruzzo, deprecate anche dalla parte migliore e più consapevole del mondo venatorio. Diversi cacciatori e numerosi cittadini si sono rivolti alle sedi WWF sparse sul territorio per denunciare una situazione di inaccettabile caccia selvaggia favorita dagli scarsissimi controlli. Il momento storico particolare, con gli inevitabili disagi determinati dalla trasformazione dell'ex corpo forestale con i pesanti ritardi accumulati per la riorganizzazione delle polizie provinciali, avrebbero dovuto consigliare alla regione ben alto atteggiamento. Ma la giunta ad Alfonso continua a dimostrarsi del tutto disattenta alla luce per la tutela della fauna al pari del governo che l'ha proceduta. Ricordiamo al Presidente della Regione, prosegue Di Tizio e dai suoi assessori, che gli animali selvatici sono un patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare delle interesse della comunità nazionale e internazionale. La legge che tutela la fauna selvatica e disciplina le attività di caccia prevede esplicitamente il divieto di cacciare su terreni in tutto o in parte coperti da neve. Un divieto che andava rafforzato in queste giornate di eccezionale maltempo con la sospensione per alcuni giorni del calendario venatorio. È provato da studi scientifici che in inverno in genere ed ancor più in periodi così particolari gli animali selvatici sono estremamente deboli e dovendo spendere le poche energie residue per nutrirsi difficilmente riescono a trovare anche la forza per fuggire dai cacciatori. Il Presidente Luciano D'Alfonso ed il suo governo, sin qui indifferenti, farebbero ancora in tempo, visto che il maltempo persiste, a fermare la strage almeno per questi ultimi giorni di neve e gelo. Il prossimo 13 gennaio ricorre il 102esimo anniversario del terremoto della Marsica del 1915. L'amministrazione comunale di Avezzano ha reso noto il programma che è stato predisposto. Ore 9.30, strada regionale numero 82, raduno delle autorità civili e militari di polizia, religiose, associazioni combatantistiche d'arma ed associazioni di volontariato. 9.45, partenza del corteo per il memorial. 9.50, deposizione della corona d'alloro alle vittime del terremoto e benedizione. Ore 10, intervento delle autorità. Ore 17, Santa Messa del Santuario della Madonna del Suffraggio, Don Orione, ufficiata dal Vescovo dei Marsi, Monsignor Pietro Santoro. Lutta nel mondo politico abruzzese, all'età di 86 anni, è venuto a mancare Ugo Crescenzi, ex presidente del Consiglio regionale, nonché deputato della democrazia cristiana nella decima legislatura 1987-1992. Crescenzi, nato a San Benetto del Tronto il 25 aprile 1930, si stabilì dopo gli studi a Pescara dove visse con la famiglia. L'ex presidente era stato ricoverato all'ospedale di Pescara a causa di un blocco renale che lo ha portato alla morte. I suoi funerali si terranno domani, mercoledì, alle ore 10.30, nella chiesa del Sagro Cuore di Pescara. La sarma verrà poi tumulata nel cimitero di Colonnella, in provincia di Teramo. Le ricordo il cordoglio del presidente D'Alfonso. Mi lacera sapere che Ugo Crescenzi non è più tra noi. Ho coltivato con dedizione l'amicizia che mi ligava a lui, poiché rappresentava un modello. Democristiano Prusanque, fautore di una politica ricca di profondità intellettuale, egli ha seguito tutto il percorso politico nel partito fino a diventare primo presidente della regione Abruzzo nel 1970. Il ricordo del deputato Gianni Melilla. L'onorevole Ugo Crescenzi ha avuto una intensa e produttiva attività istituzionale con l'avvisto presidente della regione Abruzzo e deputato nella decima legislatura. E' stato un politico di grande qualità nella democrazia cristiana quando i partiti erano uno straordinario veicolo di partecipazione democratica e popolare. La sua scomparsa lascia un voto nella comunità politica abruzzese della cosiddetta Prima Repubblica, quella che ha fatto grande l'Italia ed anche l'Abruzzo. Era un uomo di partito nel senso più nobile del termine. E' cortoglio anche dell'Udc Abruzzo per la scomparsa dell'onorevole Ugo Crescenzi. Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa del caro Ugo. Si legge in una nota del segretario regionale dell'Udc Enrico Di Giuseppe Antonio, una persona esemplare di profonda onestà intellettuale e di una integrità morale notevole. Il suo impegno nel mondo della politica, la sua dedizione, dimostrata più volte al fine della proficua crescita del territorio, la passione con la quale si è distinto nell'affrontare i vari problemi che negli anni hanno interessato la nostra regione, tutto questo ha fatto di lui un politico vero, uno di quelli che ha reso nobile la nostra politica, quella fatta per servire il cittadino. Con osserviamo dell'onorevole Crescenzi molti ricordi, in particolare la sua venitanza nella democrazia cristiana, aggiunge la direzione regionale dell'Udc, dove lui ha fatto da maestro a molti, trasmettendo quei valori che fecero da fondamento al nostro partito, l'amore ed il rispetto per la volontà del popolo, i principi di uguaglianza e il rispetto della libertà per ciascun individuo. Bambole di ogni epoca, Foggia e Dimensione, esposte in una delle sale dell'Arsa di Avezzano, per una mostra che riparà aperta fino a domenica 22 gennaio. Per gli amanti di questo genere c'è veramente da rimanere estasiati nel ammirare alcuni esemplari unici nel loro stile. Sull'argomento vi proponiamo il servizio che è stato realizzato dal collega Plinio Olivotto. Consultorio familiare, Fondazione Carispac e Comune di Avezzano, tutti insieme per contribuire, per collaborare a questa splendida mostra di bambole. Le bambole raccontano, ce ne sono tantissime qui, siamo nella sede dell'Arsa, in una delle tante sale della sede dell'Arsa, che è stata rivalutata ultimamente e riconsegnata quasi alla città. E qui c'è una esposizione di bambole veramente eccezionale. L'ha curata la signora Donatella Ciaccia e con lei Valeria Di Renzo. Due donne che hanno questa passione, non sono le uniche in Italia, ce ne sono tante, ma qui c'è veramente tanto tanto da vedere. Allora Donatella, innanzitutto quando nasce questa passione? Ma sempre, l'ho avuta sempre, da bambina prestavo i piedi per avere l'ennesima bambola che i miei rifiutavano, perché ero arrivata a 30, già a 9 anni avevo 30 bambole. E ovviamente qui non ci sono, perché si sono logurate nel tempo. E poi, diciamo, ripreso ad una certa... dai 30 anni in poi, 40, ho preso proprio ad appassionarmi al collezionismo. Quindi a girare, ad andare per le fiere dell'antiquariato. E così è nata... quello che prima era un gioco è diventato una passione, e poi una ricerca, una ricerca storica. Eh già, sì, perché si va anche indietro nel tempo. Valeria, che cosa rappresenta una bambola per una donna? Innanzitutto per una bambina, e poi per una donna. Allora, per una bambina è un mondo di sogni, no? Non è solo un gioco fine a se stesso, ma apre la fantasia, la mente, il cuore. E vedendo queste bambole così tutte insieme, anche l'adulto, anche la persona grande, sente che nel cuore è vivo questo mondo infantile, questo mondo dell'infanzia, così bello. E quindi, la bambola non racconta solo, così, la bellezza artistica formale, ma c'è anche tutta una storia, in questa mostra, della grandezza dell'artigianato italiano, che ha fatto delle cose stupende che oggi non si fanno più. Oggi sono arrivate quelle, così, non manufatturiere. E poi c'è anche la storia del costume, perché una bambola racconta l'evoluzione dei tempi, e quindi è una storia complessa, non è solo un giocattolo. Da quanti posti, da quante città, da quante nazioni provengono i pezzi che sono qui, in questa sede? Beh, ci sono le bamboline in costume, quindi bambole dal mondo, dal Giappone, Thailandia, le bamboline in costume. Poi la maggior parte delle bambole, 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 pupe, sono italiane. La maggior parte è Made in Italy, perché ho voluto omaggiare il Made in Italy. E poi c'è qualcosa che proviene dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania, qualche pezzo. E non ho potuto esibire le bellissime spagnole della famosa casa, famosa per l'appunto. E ho cercato, insomma, di valorizzare il bello, il fatto bene, che adesso purtroppo, insomma, è un po' oscurato dal Made in China. Ecco, appunto, allora, diciamo un po' di che materiale, di quali materiali sono fatte queste bambole, perché non sono soltanto di pezza, di stoffa. No, allora, si va dalle prime bambole, diciamo quelle che ho io, in cartapesta, poi in celluloide, poi anche in stoffa, c'è il biscuit, e poi si passa al vinile, cioè alla plastica, dura e morbida negli anni Sessanta. Ovviamente la cartapesta dura poco, il vinile, diciamo, la celluloide dura poco per motivi di facile infiammarsi, perché poteva infiammarsi. E quindi, ecco, e quindi, anche in bachelite, ho diversi esemplari in bachelite, c'è stato un periodo, il periodo delle bambole da salotto, con vestiti sontuosi, in bachelite, di una famosa casa produttrice, Atena, e, beh, quindi questi sono i materiali più, diciamo, più utilizzati, ecco. Il pezzo più pregiato che è in questa mostra, quanto può valere sul mercato? Eh, beh, il pezzo più pregiato, anche, beh, si va sul 1000 euro. Eh, beh, insomma, un bel po', eh. Eh, beh, ma non diciamo che sono pezzi, c'è qualcosa di poco, non ho la fortuna di poter ambire al mercato dell'antiquariato vero e proprio, infatti questa è una mostra vintage, perché se si entra nel mondo dell'antiquariato i prezzi sono veramente, cioè non è da tutti, è veramente. Io quindi mi accontento un po' ogni tanto di farmi un regalo, no, di farmi un regalo un po' più invece di comprarmi un oggetto di lusso. Eh, vabbè, acquisto. Vabbè, vedete, quindi c'è chi spende in un modo, chi spende in un altro. Valeria, rappresentano un'epoca, una volta c'erano, appunto, le bambine che facevano di tutto per avere una bambola. Oggi le bambine, le femminucce, non puntano più tanto ad avere la loro bambolina? Non è vero, perché io, insomma, conosco tante bambine, una nipotina, una nipotina e altre amichette, che invece impazziscono ancora per i bambolotti. Adesso certo non hanno più questi vestiti di artigianato finissimo, no? Però le bambine sono sempre interessate e sviluppano anche un senso materno. Ecco, il senso materno c'è ancora, esiste ancora nelle bambine? Sì, in molte è davvero sviluppato. Poi, certo, avvicinano a queste bambole giocattoli più tecnologici, però la bambola è sempre il massimo per una bambina. Peccato però che non ci siano più gli artigiani di una volta. Le bambole uniche, pezzi unici, fatti a mano, non esistono più. Infatti, infatti, come diceva Donatella, ormai tutto made in China, quindi dobbiamo rinunciare alle belle cose italiane. Vabbè, prezzi più bassi magari, ma sicuramente qualità più scadente. Allora, per concludere, Donatella, fino a quando resterà aperta questa mostra? Fino al domenica 22 gennaio, sarà l'ultimo giorno, il giorno conclusivo. Mi auguro che... Ingresso libero, ovviamente. Ingresso libero, ci saranno anche belle iniziative, non so, domenica prossima, un gruppo di lettura di bambini che verrà a leggere questi testi, perché i libri sono altrettanto belli. Libri degli anni 50, 60 e 70. L'Associazione Lavori Amo per l'Aquila ha convocato un'assemblea aperta sul tema del lavoro all'Aquila, con particolare attenzione al mondo dei contact center e dei servizi a distanza, che rappresenta il settore occupazionale più rilevante all'Aquila, l'unico in grado anche di promuovere nuova, buona occupazione. L'appuntamento è per sabato 14 gennaio, alle ore 10.30, presso la Casa dell'Ontariato in via Saragata 10, zona Campo di Pile. All'assemblea interverranno l'onorevole Lello Di Gioia, presidente della Commissione parlamentare bicamerale e di controllo sulle attività degli antigestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, il dottor Gianni Padovani, responsabile patronato a Enac Abruzzo, Agenzia per il Lavoro. In una nota si fa notare che il tema dello sviluppo e dell'occupazione all'Aquila è oggi ancora più urgente, non c'è più tempo da perdere. L'allarme sulla nuova gara INPS non è affatto cessata dopo la doverosa proroga del servizio pubblico di rilevanza nazionale. Per creare nuova occupazione e occasioni di lavoro bisogna innanzitutto tutelare quello esistente. Per questo si vuole sollecitare ancora la massima attenzione sulla vicenda della nuova imminente gara per il content center INPS, poiché anche dopo la grande mobilitazione dell'interacità e delle forze politiche sindacali, l'unica esplicita indicazione ricevuta dall'INPS, contenuta nel comunicato dei sindacati nazionali di settore, consiste semplicemente nella dichiarazione di voler rispettare le norme vigenti. Ciò che continua però a mancare sono le indicazioni sulle concrete modalità applicative delle leggi. È questo il problema ed è per questo che è stato posto da tempo all'attenzione di tutte le istituzioni locali e degli esponenti politici e sindacali questo delicato argomento. Ed è su questo che bisogna ottenere risposte chiare prima che sia troppo tardi. Si è insediato ieri il nuovo Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Avezzano e della Marsica. Nel corso della riunione, preseduta dal presidente Valerio Dell'Olio, si è provveduto all'elezione delle cariche dell'ente, vicepresidente Fabrizio Ranieri, segretario Walter Giacomo Antonio, tesoriere Orlando Viscogliosi, enti locali ed istituzionali Antonio Del Fusco, formazione e università Monica Pestilli, formazione giovani Barbara Cleofe, attività produttive ed associazioni di categoria Marisa Gismondi, informatizzazione ed eventi Stefano Olivieri. Il nuovo Consiglio ha poi provveduto alla votazione dei membri del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dove è stata eletta Felicia Mazzocchi dell'Odec di Avezzano e della Marsica. Acqua minerale a chilometri zero a Celano, grazie alle casette dell'acqua installate in Piazza Aia ed in località Campitelli. Entro pochi giorni le due casette entreranno in funzione per la distribuzione di acqua minerale naturale e gassata al costo di 5 centesimi al litro. Non è stato facile realizzare il progetto, afferma il sindaco Settimio Santilli, a causa delle lungaggini burocratiche per ottenere tutte le autorizzazioni, ma alla fine la nostra perseveranza è stata premiata. Abbiamo avviato tutto l'iter legislativo alla installazione delle casette dell'acqua già al momento del nostro insediamento nel 2015 e ci siamo spessi confrontati con enti superiori, quali Ato, il CAM e la stessa Regione. Ora la faticosa e tortuosa Prassi si avvia a conclusione e possiamo offrire ai cittadini un servizio adeguato, conveniente e funzionale. Al momento, continua il sindaco Santilli, le casette sono state localizzate in Piazza Aia e nel rione Campitelli, in quanto si tratta di due zone della città molto fruibili, con ampie zone di parcheggio frequentate e densamente popolate. Tre parametri essenziali per verificare la bontà del progetto che l'amministrazione comunale intende estendere successivamente in altre zone della città. Se i risultati del monitoraggio saranno quelli che ci aspettiamo, conclude il sindaco, altri due impianti di distribuzione verranno installati a Borgo Stata 14 e nel quartiere Stazione. Il secondo step del programma Acqua a chilometro zero, infatti, prevede che nel corso dei prossimi tre mesi venga effettuato una sorta di attento monitoraggio per verificare l'indice di gradimento da parte dei cittadini che quotidianamente si recaranno nei punti di distribuzione per rifornirsi di acqua naturale e mineralizzata. Neve, freddo e polemiche anche nell'Alto Sangro. Il gruppo consigliare Progetto Comune di Castelli Sangro polemizza per alcune prese di posizione in difesa dell'ospedale di Solmona. Per loro, invece, l'unico ospedale di montagna si trova proprio a Castelli Sangro. In una nota affermano che, quando nevica, bisogna prepararsi in tempo utile all'emergenza. In questi giorni di emergenze ce ne sono state molte, ma per i responsabili di Progetto Comune è utile rimarcare quella sanitaria. La statale 17 viene chiusa, le arterie principali che collegano l'Alto Sangro ad altri territori sono impraticabili, ma al centro della notizia viene posto l'ospedale di Solmona, parlandone come di un ospedale di montagna. C'è qualcosa che non funziona. Solmona è a 400 metri. A vicino a Vezzano, l'Aquila e Pescara, Castelli Sangro, si trova ad un'altitudine di 800 metri e serve un territorio vasto e diversificato, anche interregionale, che supera di gran lunga i mille metri di altitudine. Due presidi diversi, con bacini di utenza differenti. Eppure si nomina Sulmona come ospedale di montagna per rivendicare quelle prerogative che spettano all'Alto Sangro per la sua specificità climatica e territoriale. Pare una rivalità costruita ad arte. Castelli Sangro, infatti, ha avuto quel tipo di configurazione, ma fatica a mantenere i propri servizi. E non c'è turismo senza servizi, che sia la viabilità o piuttosto il diritto alla salute. Da tempo, specificano, viene portata avanti la proposta di creare un'unica unità operativa complessa, indipendente da Sulmona, con medicina ed una piattaforma completa di emergenza-urgenza. La proposta è piaciuta in regione ed è il direttore della ASL1, la conosce. Ritengono sia l'unica strada per vederci garantiti i servizi necessari al territorio. I consiglieri della minoranza di centro-destra a Vasto, Alessandro Delisa, gruppo misto, Alessandra Cappa, Unione per Vasto, Vincenzo Suriani, Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, Francesco Prospero, Progetto per Vasto, Edmondo Laudazzi, il nuovo Faro e Nicola Del Prete, Vasto 2016, hanno depositato oggi al protocollo del Comune una richiesta di convocazione di Consiglio Comunale straordinario ed urgente sulla questione dei profughi a Vasto. Secondo i richiedenti, il Consiglio Comunale deve affrontare il tema dell'indirizzo delle politiche di accoglienza e della gestione del fenomeno della immigrazione all'interno del territorio del Comune di Vasto, anche in considerazione dell'adesione della Giunta Comunale al sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati deliberato il 28 dicembre scorso. Valutata la risonanza, si legge nella richiesta inoltrata al Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte della decisione della Giunta Comunale e nell'opinione pubblica e nella cittadinanza, si chiede la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario ed urgente. Giovedì 12 gennaio alle ore 17 a Pescara, nella sede di Italia Nostra, primo incontro con Antonio Fares, storico sulla Dalmazia, caratteri geografici e geopolitici. La costa orientale dell'Adriatico è occupata interamente, si fa notare, da una sola regione, la Dalmazia. I suoi aspetti geomorfologici sono quasi unici sulla terra, poiché è costituita da una lunga e stretta a fascia montuosa, continentale e da una corona di isole antistanti. Un territorio così accidentato ed articolato è sempre stato percorso facilmente via mare. Ancora oggi, spiegano da Italia Nostra, lo si visita meglio in barca che in auto. L'elemento un etnico è stato per secoli latino, da cui il dalmatico anello di congiunzione linguistica tra l'italiano ed il romano. Presentazione del viaggio di una settimana in barca, cabine doppie lungo le coste della Dalmazia, nella seconda metà di giugno al costo di 1.000 euro pro capite. Prenotazioni entro il 13 febbraio 2017, previo versamento di un anticipo di 250 euro. La Confcommercio Imprese per l'Italia di Avezzano comunica che sono aperte le iscrizioni al corso sub-somministrazione di alimenti e bevande che abilita sia alla vendita di prodotti alimentari che alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il corso della durata di 120 ore si terrà ad Avezzano dal lunedì al venerdì. Per le iscrizioni rivolgersi presso gli uffici della Segreteria Confcommercio Imprese di Avezzano. In via Garibaldi 139 mail Avezzano e Chioccia Confcommercio a Q.it E prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del notiziario la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie per la cortesia e attenzione e da risenterci alla prossima edizione. Grazie per la corte!